I ragazzi, io sono Planet 2030 e... Io sono Planet 2030 E oggi c'è un nuovo video Un video molto veloce Un video dove vi spiegherò Minecraft E lui ci sta troppo tempo a parlare E faremo una serie Di sopravvivenza Ci sono link, qua Vabbè, non c'è una serie di sopravvivenza su Minecraft E niente, questo video è veloce E andate a vedere anche il mio video che ho fatto Anche il suo canale E niente ragazzi Noi ci vediamo al prossimo video Avete fatto con me prima Aiuto Ciao ragazzi